sorvoliamo gli accadimenti di questo pomeriggio che poi in realtà pomeriggio insomma si è chiuso poco fa due ore fa il risultato di quella partita stiamo per analizzare milan atalanta ragazzi e io te lo premetto il milan non pareggerà non lo vedranno mai sto contenuto tanto qualora dovessero pareggiare sta partita perché si andrebbe ipoteticamente a supplementare i rigori ma per me il milan non riuscirà nell'impresa di pareggiare questa partita e parlo come se l'atalanta fosse già in semifinale di coppa italia lo penso anche io strano perché tu del solito non lo pensi mai tu del solito quando dici che c'è il gol in live avviene sempre non lo penso anch'io ok ciao ragazzi ben ritrovati a tutti allora se vi va di supportare questi contenuti fatecelo capire semplicemente lasciando mi piace questo è l'episodio di prima dice c'è un fallo di mano non puni no che no se gli è scivolata dietro non c'è assolutamente nulla e lasciate mi piace per supportare questo genere di contenuti se vi iscrivete attivate la campanella ogni volta che pubblichiamo qualcosa resterete sempre aggiornati non vi perderete più assolutamente nulla ci rivolgiamo a quelli che seguono sempre i contenuti di questo canale ma ancora non si sono iscritti ce lo fate sto regalo per il 2024 è una cosa che va anche a vostro vantaggio doppio canale di calcio pagellone sfoco della roma lo trovate su gabbo man calcio extra e canale extra calcio scusate se sto periodo sono meno attivo ma sto fa 8 video al giorno sui primi due canali di calcio è quello insomma tutti i canali in infobox in infobox come sempre compariranno qui durante in infobox allora io ti dico la verità sì a parte che ti dico la verità vi dico la verità perché lui già lo sa è un'analisi che ho fatto nell'esatto momento in cui ha passato un vantaggio al milan io ho detto a lui ho detto io sono convinto che l'atalanta sta partita la pariglierà ma che alla fine in un modo o nell'altro la spunterà il milan e la vincerà il milan se porterà il milan a casa il bottino pieno il bottino pieno quindi la semifinale la semifinale della coppa italia diciamo che così non è stato l'opposto sì praticamente perché l'atalanta a pareggiarla la pareggiata immediatamente sì due minuti dopo no due minuti dopo non mi sape manco manco due minuti cioè se non mi sbaglio abbattuto e sulla stessa azione assegnato non era la stessa azione no mi ricordo male può essere può essere mi ricordo male una bestemmia per la roma una pisciata una cacata una scureggiata perché ho mangiato fagioli un minuto era solo un minuto sì praticamente 45 e poi 45 più due quindi sì un paio di minuti scarsi un paio di minuti ok e dove volevo arrivare volevo arrivare il fatto che ti stavo dicendo l'atalanta la pareggia tra l'altro l'azione che porta il gol dall'atalanta bellissimo no pure il gol del milano anche il gol del milano entrambi con uno più bello dell'altro molto 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 belli e invece poi succede quello che anche io non è che me l'aspettassi sinceramente no però guardando poi come è arrivato il pareggio cioè la partita che la rimetti subito in piedi però mi aspettavo il milan che giocando in casa in un modo o nell'altro avrebbe rimesso il muso avanti assolutamente magari anche non meritando la partita che è stata comunque equilibrata o forse se mi permetto di guardando poi le occasioni sul 2 a 1 per l'atalanta ci hanno avuto le possibilità di far il terzo l'alanta ci ha avuto le occasioni di far il terzo insomma a sprazi meglio anche l'atalanta mi verrebbe da dire andiamo ad analizzare il complesso della partita sì l'atalanta ha giocato meglio specialmente nel secondo tempo quando ha segnato il gol del 2 a 1 ecco mi è ritornato in mente tutto il light motive della partita perché il milano è partito sicuramente meglio perché poi voi dovete capire tra un pagellone sfoco le bestemmie per la roma il vedere la partita spizzica qualcosa per mangiare riordinare perfettamente tutto quello che hai visto e che non hai visto perché stavi a guardare ma stavi a pensare altro è difficile partito meglio il milan nonostante la miglior partenza del milan occasione musa una cosa in altra la prima occasione dell'atalanta se non mi sbaglio era il trentesimo qualcosa del genere sì colm ederson ha fatto una sgroppata poi c'è stata quella situazione casperini che si è incazzato ragazzi è stato in pochi secondi è stato espulso e via e via dicendo e però ecco la se devo trovare dei meriti all'atalanta nel come stanno portando a casa questo bottino pieno è il saper gestire la situazione controllare e alla lunga avere la meglio prendere le misure al milan e riuscire in quello che stanno riuscendo non so se sei d'accordo con me perché a fine primo tempo prendi il gol te prendi una mazzata tra cape e collo non reagisci e permetti al milan però ipoteticamente con vantaggio a fine primo tempo di allungare sì sì assolutamente no capito questa dimostrazione del fatto che l'atalanta è una squadra viva non solo in campionato è una squadra che ci avrà i suoi punti deboli come tutte le squadre di serie a tranne la davanti inter e juventus praticamente perlomeno per il discorso serie a l'inter è fuori da questa competizione la juventus giocherà domani quindi poi vedremo quello che sarà il ragionamento del discorso però atalanta che si dimostra veramente una squadra solida una squadra compatta ma soprattutto una squadra che non c'ha paura neanche di giocare contro il milano a san siro ma questa la differenza rispetto a tante altre squadre perché non si lasciano intimorire da nessuno hanno una propria identità e la esprimono in qualunque circostanza anche a costo a volte è successo l'abbiamo visto di fare delle figuracce mentre invece quando te gira tutto bene riesci in partite come questa nonostante soffri perché come detto tu la prima mezz'ora del primo tempo è stata da marchio milan assolutamente mentre poi riesci a rimetterti in carreggiata ti è riposta nonostante qualche cosina vabbè ma carne secca è un bel portiere ormai lo sappiamo pure contro noi ha fatto una partita strevitosa però il milano fuori permettimi di dire poi te lascio continuare il ragionamento questo era il ragionamento che io facevo a bocce ferme no con l'inter fuori dai giochi col napoli fuori dai giochi che comunque tu capisci bene che so i probabili ipotetici campioni d'italia di questa forse poi bisogna vedere dalla juve i precedenti campioni d'italia cioè la terza forza del campionato per quanto attualmente la juventus è ancora dentro nella seconda no ma tu con l'atalanta devi passare tu con l'atalanta veramente come dicevi te in un modo o nell'altro il muso avanti glielo devi mettere giocando in casa poi perché se la situazione champions league sappiamo come è andata se comunque sei dentro un'altra competizione che te dovrai giocare e giocherai al massimo delle possibilità il campionato è difficile che tu riesca se non impossibile che tu riesca a recuperare punti no se c'è la competizione dove veramente puoi di la tua dove veramente puoi portarti a casa qualcosa di tangibile in termini di coppia è proprio la coppa italia la coppa italia sì sono d'accordo però questo purtroppo un discorso che come vale per il milano vale anche per tante altre squadre tra cui proprio la roma invece non puoi paragonare oggi però al milano con la roma no anzi forse te dico la verità è peggio quello che è successo alla roma piuttosto che al milano perché tra virgolette il milano può anche segna megnana di testa e vanno ai supplementari visto volare non lo so rimessa dal fondo è finita la partita ma lo immaginavamo ti dicevo forse è peggio quello che è successo a roma che magari la coppa italia potrebbe essere più alla portata visto che è una competizione non posso più per il milano quello che ha preso del braccio non daranno calcio di rigore hai visto il braccio no no era attaccatissimo al corpo cioè non credo che daranno calcio di rigore ragazzi sarebbe una cosa io ho visto un braccio ma non ho capito quanto fosse o meno attaccato al corpo mi sembrava un po leggermente staccato non aumentava il volume del corpo quello sicuro cioè se danno un calcio di rigore del genere da manicomio da manicomio non ci vogliono fanno addormire probabilmente check in penalty no no non lo danno non lo danno no non ci credo no ma non credo che lo danno nulla non c'è niente no no non ci credo è finita è finita così il colpaccio della tala comunque assurdo mamma mia questo milano in grado veramente di far vedere anche all'interno della stessa partita tutto il contrario di tutto bellissimo che esulta guarda che questa è una cosa bella da vedere questa è una cosa bella da vedere quel balletto esultanza comunque abbastanza contro è comunque una semifinale della coppa italia esatto contro la vincente tra contro la lazio no no la lazio contro juve frosinone la fiorentina ma tu pensa che semifinale della coppa italia quindi una tra l'atalanta e fiorentina sarà la finalista della coppa italia è pazzesco ma è pazzesco che il milan esce per come erano passati in vantaggio con quel bel fraseggio tra leao e e teo hernandez bellissimo gol al volo era al volo delleao l'ha fatta rimbalzare la palla non mi ricordo comunque la piazza perfettamente dove carne secchi non può non so se è più bello il pareggio dei coppi mainers siamo su quei livelli perché ha raccolto veramente un un pallone incredibile e poi ragazzi la situazione che porterà al vantaggio dell'atalanto la doppietta dei coppi mainers e questo è quanto vorremmo sapere la vostra qui sotto nei commenti per me seppure pur sempre atalanta ma è abbastanza clamoroso che alla fine a san siro riescono ad avere la meglio è la coppa italia delle sorprese comunque non smette di stupire come sempre come tutti l'anni alla prossima con un nuovo video ciao